Nobile arte la chiamano e la chiamava così anche il pugile sardo Lai prima dei suoi incontri con il negro Ardison, ora però la chiama in un altro modo. Lai è quello che ha la pelle chiara, guardatelo adesso perché tra qualche secondo sarà nero anche lui, nero di botte. Il momento è drammatico per Lai non per il pubblico, ve lo facciamo vedere al rallentatore e per cortesia osserviamo tutti un minuto di silenzio. V'è sembrata lunga la sequenza? Se è sembrata lunga a voi, figuratevi a Lai che si rifiuta di combattere ancora. E baci tu, grida il suo secondo, quello mena sul serio.